Cesare, consapevole di avere in mano un potere immenso, non impose la propria autorità in maniera diretta instaurando una monarchia alla quale i romani erano ostili per tradizione. Egli conservò le istituzioni della res pubblica, utilizzandole però a proprio vantaggio per concentrare su di sé tutti i poteri chiave. Cesare ricoprì la carica di tribuno per opporre il veto alle decisioni dei comizi e per garantire l'inviolabilità della propria persona. Si fece assegnare i poteri della censura per redigere le liste dei futuri membri del Senato, per selezionare la classe dirigente. Si assicurò l'imperium proconsolare, il comando militare nelle province. Si fece eleggere console per quattro volte. Il consolato gli consentì di esercitare l'imperium, cioè il comando militare, e la facoltà di convocare Senato e i comizi. Utilizzò una magistratura tradizionale, la dittatura, per giustificare la concentrazione nella sua persona di tutti questi poteri. Cesare tuttavia commise due errori fatali. In primo luogo, dopo aver accumulato nella sua persona un potere straordinario, si fece nominare dittatore a vita, prospettando in tal modo l'istituzione di una monarchia assoluta, alla quale la classe dirigente romana era tradizionalmente ostile. In secondo luogo, egli sottovalutò il peso economico e di riflesso politico dell'élite senatoria, che ordì e mise in atto la congiura nei suoi confronti. Il 15 marzo del 44 avanti Cristo, Cesare venne assassinato da un gruppo di aristocratici, già sostenitori di Pompeo, capeggiato da Marco Giugno Bruto e da Gaio Cassio Longino.